Dua Lipa avrebbe un nuovo amore e lo scopriamo attraverso i social Lui sarebbe un noto divo del cinema internazionale. Dua Lipa, classe 1995, è una delle star internazionali di maggiore spessore degli anni Una cantautrice e compositrice, nata a Londra, ma di etnia albanese, si è fatta conoscere in tutto il mondo con la sua musica e con il suo modo di essere un vero e proprio animale da palcoscenico La sua cultura musicale, fonda le sue radici tra Londra e Pristina, ad appena 14 anni si fa conoscere con alcune cover che canta sulla piattaforma YouTube Poi però, il successo l'ha letteralmente investita e nel 2015 ha avuto il suo esordio nel mercato discografico, sotto l'etichetta Warner Records Numerosi i brani di grandi successo che ha portato nelle radio e sul palco dove, quando si esibisce, non fa altro che offrire un grandissimo spettacolo Il primo singolo è stato Beth Ewan, inserito nel 2017 nel suo primo album, Dua Lipa Un grande talento il suo che l'ha portata in cima alle classifiche e ovviamente, del gradimento da parte del pubblico che continua a seguirla con grande attenzione Numerosi i riconoscimenti musicali che ha guadagnato nella sua carriera, pur essendo ancora molto giovane Ma in fondo, quando un talento è palese, com'è possibile non notarlo? Ovviamente, essendo una donna e un'artista molto apprezzata, i paparazzi le sono sempre dietro alla ricerca dello scoop Dopo settimane e settimane di chiacchiere, ecco che abbiamo scoperto chi è la sua fiamma Dua Lipa ha un nuovo amore Il nuovo amore di Dua Lipa Cosa c'è di meglio in estate, se non godersi qualche piccolo gossip con cui condire le giornate sotto l'ombrellone? Meglio ancora se lo scoop è su un volto internazionale, che tanto piace a tutto il pubblico Ecco che allora sono molti ad essere curiosi di conoscere quello che è il nuovo amore della cantate In realtà le voci si sono susseguite per settimane Solo adesso però, i due vengono allo scoperto, con alcuni scatti che li ritraggono Dua Lipa avrebbe una relazione con un noto attore, Callum Turner La coppia ha deciso di uscire allo scoperto Dopo aver dato modo ai paparazzi e alla stampa scandalistica di parlare, Dua Lipa e Callum Turner hanno deciso di uscire allo scoperto, condividendo sui social alcuni loro scatti durante un festival musicale Un carosello di scatti che rivela questo nuovo amore La coppia starebbe insieme da gennaio e più volte erano stati avvistati Insomma, anche questo volta tanti indizi hanno portato comunque alla realtà